Nicolo Master Director Italia, il mio viaggio alla ricerca dei migliori talenti italiani. Oggi la ricerca mi ha portato a Roma, Caputmundi e Capitale d'Italia e della caccia e pepe. Che si aprono i cancelli. Chissà, oh, provarci sicuramente stai un passo più avanti. Farò in modo di poter vincere. Avanti il primo aspirante Nicolo Master Director Italia. Ciao, amo tantissimo quello che faccio. Sono stato un anno e mezzo senza casa, praticamente ho avuto la macchina fotografica con me che mi ha aiutato a far passare il tempo. Poi sono partito per il Sud America, mi sono fatto dieci mesi di viaggio e da là è nata la mia passione per fotografia. Avanti! Ah no, stanno di qua. Avanti il prossimo! Valentina Tagostino, hai la luce giusta per diventare la prima Nikon Master Director Italia. Dalia Ciccarelli, hai la luce giusta per diventare la prima Nikon Master Director Italia. Sono felicissima di aver passato i casting e domani mi preparo appunto a lavorare e a mettermi in gioco. Penso che sarà molto difficile conquistare il titolo di Nikon Master Director Italia perché non mi sento molto pronta però davvero ce la metterò tutta per portarmi a casa la giornata al pieno delle mie possibilità. Appena terminata la giornata di casting qui a Roma, tante facce nuove, tanti talenti pronti a diventare Nikon Master Director Italia. Ma adesso facciamo luce sul prossimo obiettivo, ci vediamo a Torino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.